Ben ritrovati al meteo di giovedì 27 aprile. Affoggio domani bel tempo con sole splendende per tutta la giornata. Non sono previste piogge. Durante la giornata di domani la temperatura massima registrata sarà di 22 gradi, la minima di 8. I venti al mattino saranno deboli e proverranno da ovest nord ovest al pomeriggio moderati e proverranno da nord nord est. Vi lascio alla nostra programmazione e vi auguro una buona giornata.